Ciao a tutti i Lopardi, siamo al Palazzo San Silvestro insieme a Pippo Colli. Pippo, questa sera è un'altra bella vittoria. Per te l'esordio al Palazzo di San Silvestro in questa stagione, due bombe nel quarto periodo che hanno aperto poi le danze verso il finale. Sì, per fortuna che l'ho messo e così ci ha dato lo step per il vantaggio del P20. Solo che nell'ultimo quarto poi abbiamo avuto un vuoto e però siamo stati abbastanza lucidi da tenerli a galla per il vantaggio. Grazie mille, un inizio un po' sfortunato quest'anno per te ma adesso sei in pista, di nuovo appunto l'esordio questa sera e da qua si continua. Sì, sono stato un po' sfigato con gli infortuni tra l'anno scorso e quest'anno però adesso basta, la sfiga è finita e si va, si inizia a andare. Allora ancora grazie, ancora complimenti e come sempre Lopardi Pride!